Sono 25 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore di età compresa tra 5 e 89 anni su 4.897 test effettuati, 2.625 molecolari e 2.272 antigenici per un tasso di positività pari allo 0,5%. Dall'inizio dell'emergenza dunque sono in totale 74.570 i casi accertati di coronavirus in Abruzzo. Non si registrano ulteriori decessi nelle ultime 24 ore. Le variazioni settimanali evidenziano ancora chiaramente numeri della pandemia in flessione, in particolare sul fronte dei ricoveri. In questo momento c'è solo un paziente Covid-19 in terapia intensiva con un calo di tre unità rispetto a venerdì scorso. Nello stesso intervallo di tempo si sono registrati 24 ricoveri ordinari in meno ed ora sono 52. I positivi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL sono 1.224, meno 228 rispetto a una settimana fa. Sempre da venerdì scorso sono stati 397 i dimessi guariti, gli attualmente positivi sono 1.277 con un calo di 255 unità. Il triste dato dei decessi fa registrare ancora un trend in discesa. In questa settimana sono stati 7, erano stati 10 la settimana precedente e 12 due settimane fa. Sono 2.507 dunque le persone positive al Covid decedute dall'inizio dell'emergenza. I nuovi positivi sono stati 149, erano 225 la settimana precedente e 279 due settimane fa. Negli ultimi sette giorni gli aumenti sono stati 52 per la provincia dell'Aquila, 49 in quella di Teramo, 34 in quella di Chieti e 6 in quella di Pescara, 4 da fuori regione e 4 la cui provenienza è in fase di accertamento.